salve a tutti in questo breve video vediamo come funziona la app di edmodo su uno smartphone e poi successivamente vedremo anche il funzionamento in un tablet in particolare su un ipad allora l'app di edmodo come tutte le app viene frequentemente aggiornata e in particolare adesso faremo riferimento al funzionamento di questa app nel luglio 2017 quindi probabilmente chi vedrà questo video in periodi successivi potrebbe trovare o delle funzioni differenti oppure altre funzioni che in questo momento non sono presenti allora l'app di edmodo una volta che viene lanciata appare una schermata principale dove sono presenti tutti i post tutti quanti i messaggi l'interfaccia anche nei colori è molto simile a facebook anche se chiaramente l'applicazione è completamente differente l'applicazione abbastanza comoda perché dicevo abbiamo la possibilità di vedere in sequenza tutti i posti di tutti i gruppi a cui noi siamo iscritti abbiamo in alto questi due pulsanti cui il primo pulsante il più ci permette di inviare o un nuovo messaggio o un compito o un quiz l'altro pulsante con una campanella e con un punto esclamativo nel caso in cui ci sono delle notifiche ci permette appunto di accedere a tutte le notifiche presenti la rotellina ci permette di configurare l'app ma fondamentalmente l'unica cosa configurabile è in questo momento l'abilitazione delle push e in tal caso quali tipi di push vogliamo avere qui oppure sempre sul stesso argomento la ricezione delle mail bene quindi in questo modo possiamo scorrere tranquillamente tutti quanti i messaggi presenti ora da quest'altro pulsante in alto o il post cioè tutti i messaggi possiamo decidere se vedere i messaggi vedere i compiti che sono stati assegnati vedere i quiz e vedere i sondaggi e questo sempre per tutti quanti i gruppi come c'è scritto sopra abbiamo però un'ulteriore opzione di filtro a sinistra dove possiamo qui in realtà lavorare molto meglio nel senso che possiamo innanzitutto vedere quali sono i gruppi a cui noi siamo attivi in particolare noi qui avremo tre possibilità vedere i miei gruppi cioè sono i gruppi che io ho creato possono essere gruppi che ho creato se sono un docente oppure anche gruppi che io posso creare in qualsiasi momento per qualsiasi motivo poi gruppi a cui sono unito che in realtà questi sarebbero i gruppi in cui sono fondamentalmente studente quindi my group groups e come docente e gli altri come studente poi la possibilità anche di vedere i gruppi archiviati allora una volta che io decido di selezionare uno di questi gruppi per esempio classe quinta b cat eccolo qua a questo punto io vedrò esclusivamente tutti i post del soltanto di questo gruppo nel secondo tab posso vedere quali sono le persone iscritte nel terzo tab posso vedere quali sono i sottogruppi se ci sono che sono stati creati nel quarto potrò vedere tutte le cartelle a disposizione del gruppo che il docente oppure chi ha creato il gruppo mette a disposizione quindi posso in questo modo tranquillamente agire all'interno di un singolo gruppo sempre con la rotellina dell'ingranaggio posso andare a settare delle opzioni ma questa non è l'unica possibilità perché poi dopo posso anche andare al oltre le altre funzioni che magari possiamo non approfondiremo adesso possiamo andare a vedere una cosa molto importante che è il centro compiti assignment center allora in questo caso questa funzione è molto interessante perché io spesso capita che nell'elenco soprattutto se sono iscritti a parecchi compiti che le cose nell'elenco principale di tutti i messaggi magari si perdono vanno a finire il secondo piano in terzo piano e così via io qui posso con una serie di filtri poter vedere in modo rapido compiti quiz e sondaggi di un singolo gruppo basta agire appunto sui due sui due menu a tendina uno ci permette di selezionare quale gruppo o sottogruppo qui nell'elenco presenti gruppi e sottogruppi quale gruppo io voglio scegliere per esempio scelgo un'altra volta quinto b cat questo punto mi fa vedere tutti i tipi di compiti che sono stati assegnati in questo caso sono soltanto due per cui non ci sarà problema nel caso in cui fossero moltissimi compiti li vedrei tutti in sequenza e a destra posso anche scegliere dei compiti quale vedere se soltanto punti compiti in questo caso è uno se soltanto i quiz che in questo caso è sempre uno o i sondaggi in questo caso non ce n'è neanche uno bene e quindi questo è diciamo una funzione molto molto comoda che permette appunto di filtrare e le varie le varie opzioni presenti bene vediamo adesso come svolgere un quiz con l'app di edmodo prima cosa dobbiamo individuare il quiz lo possiamo trovare nei vari modi che abbiamo visto precedentemente in questo caso lo individuiamo direttamente dall'elenco di tutti i messaggi eccolo qua è un quiz sul teorema di pitagora vediamo il messaggio che è stato messo dopodiché cliccando sul tasto take quiz vediamo un riepilogo del quiz ci verrà detto il nome il teorema di pitagora quante sono le domande e la data di scadenza cliccando ulteriormente c'è un ulteriore riepilogo con il tasto continua per iniziare il quiz vero e proprio adesso i quiz sono realizzati con vari tipi di domanda la prima che troviamo è una risposta aperta quindi è una risposta soggetta poi a valutazione non automatica da parte del docente quindi abbiamo uno spazio sotto dove possiamo scrivere quello che vogliamo andando avanti avremo un altro tipo di domanda che è quello di riempire gli spazi bianchi quindi dove ci sono i trattini potremo riempire e scrivere la risposta esatta andiamo ulteriormente avanti questo è un quiz abbastanza semplice che è un vero o falso quindi ci viene chiesto il teorema di pitagora riguarda l'area di un triangolo ok andiamo avanti dopodiché ne abbiamo un altro ancora che ci viene chiesto è risposta multipla quindi i teoremi di Euclide sono facciamo nessuna delle precedenti anche se è errata andiamo ulteriormente avanti a questo punto dobbiamo praticamente associare due tipi di informazioni come si fa? semplicemente cliccando sopra una degli spazi vuoti si sceglie tra le quattro opzioni disponibili in questo caso quattro e così via fino a completare il tutto andiamo ulteriormente avanti e abbiamo finito il quiz chiaramente nel riepilogo ci viene detto che abbiamo risposto alla prima, la terza, la quarta e la quinta domanda la seconda siccome è valutabile dall'insegnante in questo momento non viene considerata conclusa ma verrà poi corretta successivamente clicchiamo sul pulsante di fine e ci viene chiesto ulteriormente se vogliamo sottomettere il quiz quindi completare il quiz cliccando ancora avanti abbiamo completato ci abbiamo un pulsante per vedere i risultati cliccando qui possiamo appunto vedere i risultati ci sono sempre una serie di riepilogo è chiaro che in questo caso non avremo ancora le risposte delle domande aperte perché sono soggette a valutazione delle altre invece vedremo in rosso quello che è giusto e quello che è sbagliato